Sappiamo tutti che gli americani amano il cibo italiano, ma sanno che cos'è? Oggi siamo di nuovo a Walmart e scopriamo che cibi italiani hanno Giovanni Rana Alfredo sauce, classico italiano questo Italian dry salame C'è un gusto di Oreo che si chiama napoletano Ah, la pasta Mini farfalle e elbows, gomiti Ma esistono i celentani? Questa è la salsa classica di Capri Tutti di Capri lo conoscono Questa invece è la salsa di pizza, classica napoletana Four cheese Alfredo, classico di Parma Extreme bacon pizza Se extreme bacon non fosse abbastanza Bacon cheeseburger E chiudiamo qui per oggi Gli americani vanno matto del cibo italiano O almeno quello che pensano sia italiano Per più video del genere iscrivetevi al mio canale E ci vediamo presto Peace Salva